Ciao a tutti, sono Valentina Vincenzini e vi mando questo video messaggio per ringraziare il pubblico e gli organizzatori di Corto di Sera per questo premio. È un premio che mi fa molto piacere ricevere, anche perché io sono siciliana e ricevere un premio a propria terra fa sempre molto piacere. L'amore corto è un cortometraggio che ho girato a New York insieme ad altri ragazzi italiani che vivono e lavorano lì. In qualche modo è una metafora la nostra esperienza italiana all'estero, per cui mi fa molto piacere che questa storia, la nostra storia, vi sia piaciuta. Ne approfitto per salutare i miei genitori che so che sono lì, mi dispiace tantissimo non poter essere personalmente, ma spero ci saranno altre occasioni. Grazie mille, ciao!